Salve ragazzi, io sono Santo Prinze e benvenuti nel mio secondo video dove andremo a recensire un nuovo liquido, una nuova aroma l'aroma della Cappella Anguria principalmente partiamo con un esame olfattivo sa proprio di anguria, materialmente è un'anguria fresca un fruttato che io prediligo, tra virgolette tranne in inverno, però in estate allora, olfattivamente è fantastico io non posso dire niente, cioè è fenomenale oggi lo andremo a provare sul mio Gani dove? qua la scritta, scusate Gani, con il Gun V1.5 montato sopra resistenza in acciaio andiamo ora a drippare il nostro bellissimo Gun ecco qua e andiamo a fare le nostre prime svapate allora stiamo utilizzando principalmente una resistenza in acciaio punta da 3, 7, 8 spire, quindi 0,17 il cotone è un cotton bacon allora come aroma è fantastico lo dico e lo ripeto è fresco cioè vi lascia in bocca un sapore di freschezza proprio sembra che siete già in estate però non lo so lascio un retro gusto che non non piace tanto non piace però allora il primo impatto è fantastico l'unica pecca che do a questa Roma è solamente il retro gusto non lo so il perché però ha un retro gusto strano proviamolo anche con un solo con un forio dell'aria aperto allora così proviamolo solo con un forio dell'aria aperto non lo so ragazzi sarà sarà una cosa mia però ha un retro gusto strano in bocca lascia una freschezza fenomenale cioè se non ci fosse il problema del retro gusto io a questo liquido gli darei 10 però a causa di questo retro gusto gli posso dare 8 però è buono buono ragazzi buonissimo senti proprio si sente proprio la freschezza è un liquido è un aroma che io consiglio a chi ama i fruttati come me e io amo tutti i fruttati tutti cioè io pure in inverno svapo fruttati per farvi capire un liquido da portare pure in spiagge ragazzi aroma anguria della cappella voto 8 è materialmente un liquido per l'estate materialmente un liquido da portare in spiagge ragazzi attenzione no con il tubo è il gun però dico una pico squeeze o un meccanico bf qualsiasi va bene qualsiasi box va bene non è buono è davvero buono tranne che dispiace questo retro gusto che non capisco il perché cioè all'olfatto è fenomenale lascia in bocca una freschezza però come retro gusto a me lascia un retro gusto strano non so come spiegarvelo ma allora qualità prezzo io do pure un 8 attenzione dobbiamo dire però la verità cioè gli aromi cappella costano un po' di più perché sono aromi che danno un po' di più rispetto agli altri e io li uso come uso altre marche e per me queste sono sono aromi da avere se uno svapa e svapa da due anni come me da due anni e mezzo è già come me l'aromi cappella per forza uno o l'ha provati o ce l'ha è impossibile che una persona che svapa da due anni non abbia provato l'aroma anguria cappella vai e niente ragazzi per questo video è tutto vi ho presentato l'aroma anguria della cappella e niente ragazzi iscrivetevi al canale e mettete mi piace condividete e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti